Il peggior Natale della mia vita, trama Paolo e Margherita sono in attesa del loro primo bambino. La gravidanza è quasi giunta al termine quando decidono di trascorrere le vacanze di Natale in un castello di montagna. Ospiti insieme a Giorgio e Clara. I genitori di Margherita, di Alberto Caccia, il capo di Giorgio, e di sua figlia Benedetta, anche lei incinta. Nonostante il matrimonio, però, Paolo non ha perso la sua furia devastatrice e quella che doveva essere una tranquilla vacanza si trasforma in un susseguirsi di guai e disavventure, aggravati da un imprevista tormenta di neve. Il peggior Natale della mia vita, cast. Cast quasi completamente italiano che vede tra i protagonisti, Fabio De Luigi, Cristiana Capotondi, Antonio Catania, Diego Abbatantuono, Anna Bonaiuto, Laura Chiatti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.